amici di piazza grande ben ritrovati diamo il benvenuto nei nostri studi ad uno che è un amico è una persona che spesso ci viene a trovare il consigliere comunale di corigliano rossano l'avvocato francesco matteo grazie per aver raccolto il nostro invito buongiorno matteo grazie soprattutto per l'amico è un onore un piacere essere presente qui a piazza grande dove ci si confronta sempre nel massimo rispetto degli altri e nella massima libertà grazie mille per l'invito allora noi abbiamo parlato nel corso di queste settimane di tanti argomenti è un territorio è una regione è una nazione il mondo vive un momento di grande difficoltà ma c'è anche altro ci sono tante criticità ci sono tanti pericoli e purtroppo col passare degli anni devo dire mi verrebbe da dire siamo sempre alle solite perché poi i grandi problemi che attanagliano il nostro territorio si ripresentano con sistematicità sei reduce da un sopralluogo agli argini del fiume crati ci vuoi aggiornare su questa problematica che è davvero molto pericolosa allora la problematica del fiume crati non ha mai smesso effettivamente di di esserci per il semplice fatto che i lavori non sono stati mai terminati in modo ottimale proprio sull'argine che ti è rotto nel 2018 questo perché perché non c'è stato un intervento serio da parte della regione all'epoca e perché il comune si è quasi disinteressato dell'argomento fino praticamente a questa mattina è un altro interessamento da parte del comune ci fu quando la famiglia oliveto insieme ovviamente tutti i vicini di casa occuparono un anno fa la 106 perché disperati dalla storia di abbandono in cui vivevano e ad oggi qual è il problema che il fiume crati si ripresenta con forza ovviamente su quegli argini è presente ovviamente sul letto del del fiume con tante problematiche legate ovviamente al comportamento umano che nulla centra ovviamente con l'aspetto naturalistico del fiume e proprio questa mattina ha preoccupato ovviamente numerosi cittadini e ha preoccupato anche la mia persona cioè mi sono preoccupato anche io quando passando sul ponte del fiume crati per venire a corigliano ho visto appunto che il fiume era totalmente in piena addirittura ha riempito anche la golena del fiume che appunto il quello spazio di sicurezza che consente alle istituzioni di poter intervenire nel momento in cui diciamo viene viene riempito ecco vale ancora il discorso c'è l'emergenza covid e quindi non ci occupiamo nello specifico di tante altre problematiche perché adesso tra poco fa un malagurato compleanno l'emergenza quindi adesso siamo ad un anno che siamo in questa situazione ma ci sono delle cose che secondo me meriterebbero attenzione ma io non ho mai collegato l'emergenza covid con l'ordinaria amministrazione nel senso non c'entra nulla l'emergenza covid con l'ordinaria amministrazione anche perché l'ordinaria amministrazione non funzionava neanche prima dell'emergenza covid cioè quando l'emergenza covid non c'era non è stato mai convocato un consiglio comunale per parlare del crati siamo stati noi in il giorno del secondo compleanno dall'allumina del crati a chiedere un'ennesima volta come opposizione un consiglio comunale per discutere della problematica crati quindi io non collego l'emergenza covid all'ordinaria amministrazione l'emergenza covid ha complicato sicuramente l'ordinaria amministrazione ha aumentato le problematiche in capo alla città ma non è collegabile la disorganizzazione amministrativa l'incapacità di gestire anche i minimi problemi da parte di un'amministrazione comunale parliamo anche della raccolta rifiuti no della proroga illegittima del contratto sull'area rossanese più volte fatta più volte questa proroga portata avanti non c'entra nulla con l'emergenza covid ti volevo chiedere in consiglio comunale con tutti i limiti del momento si sta riuscendo a sollevare problematiche si sta riuscendo ad avere un buon ritmo amministrativo visto che non è la prima tua consigliatura che giudizio hai anche proprio dell'escursus amministrativo il consiglio comunale è fermo nel senso le problematiche l'opposizione riesce a sollevarle perché ovviamente pone consigli comunali insiste sui deliberati dei consigli comunali perché la maggioranza molte volte vorrebbe che consigli comunali monotematici proposti anche dalla maggioranza stessa finissero senza un deliberato finale quindi senza un raggiungimento anche di un compromesso legittimo per il bene comune diciamo anche programmatico quindi si riesce a presentare le problematiche però non si riesce a far avere un risvolto amministrativo concreto a queste problematiche perché perché le commissioni sono totalmente ferme cioè le commissioni lavorano e funzionano in base all'ordinaria amministrazione cioè funzionano solo in virtù degli adempiamenti amministrativi obbligatori per legge ai quali l'amministrazione deve adempiare altrimenti viene commissariato tolto questo aspetto le commissioni non lavorano la commissione ambiente per esempio è da giugno che non si sta convocando nonostante le numerose problematiche legate ai rifiuti sia di natura economica sia di natura amministrativa sia di natura ambientale siano sotto gli occhi di tutti i cittadini visto che stiamo parlando di maggioranza e opposizione adesso apriamo e chiudiamo parentesi svestiti dai panni del consigliere se ci riesci che compattezza a questa maggioranza ma la mia seconda domanda collegata è che compattezza a quest'opposizione perché al netto dei comunicati stampa che secondo me hanno fatto un po il loro tempo perché ci sarebbe bisogno di un confronto vivo ma purtroppo in questo momento è impossibile come come vedi queste due entità? Allora l'opposizione è collegata è unita è compatta su una convinzione che questa amministrazione non ha idea di dove stia andando cioè non ha un'idea di città o almeno questa idea di città non l'ha mai proposta all'interno del consiglio comunale e non la vuole proporre all'interno del consiglio comunale affinché anche l'opposizione possa partecipare dare una mano all'amministrazione per raggiungere l'idea di città che la maggioranza ovviamente che ha vinto le elezioni ha. La maggioranza secondo me non avendo un'idea di città e non avendo un programma è unita sulle seggiole mi auguro cioè è unita sulle posizioni amministrative perché tanti consiglieri comunali non sanno dove andare una volta c'è stata l'esperienza amministrativa l'esperienza ovviamente della consigliatura cocomunale e tanti assessori sono onorati di sedere su quelle sedie però non un onore positivo ma un onore del più becero cioè non avendo mai ricevuto una soddisfazione diciamo politica pubblica oggi hanno l'onore di ricevere personalmente questo tipo di soddisfazione e non ce ne vogliono andare. Il problema qual è? Ci sta tutto anche questo ragionamento però cerchiamo di riempire di contenuti questa presenza all'interno del consiglio comunale all'interno delle sedie amministrative sulle poltrone amministrative e si ha difficoltà proprio a fare questo cioè a porre dei contenuti all'interno delle commissioni che non vengono neanche convocate e a far capire all'amministrazione che c'è bisogno di un percorso un programma un'idea per quanto utopica per quanto ambiziosa possa essere da perseguire affinché si possa poi concretizzare un'azione amministrativa. Cioè manca la politica. Ti volevo chiedere visto che manca la politica e qui in questo studio ci sono stati i principali candidati a sindaco della città di Corigliano Rossano e tutti e tre i principali hanno promesso giurando sul loro onore che si sarebbero occupati della questione del porto di Schiavonea. Ora allarghiamo un po' il problema perché io penso che nessuno possa dire che non ho la situazione non dico sotto controllo ma sono un termometro abbastanza preciso di quanto accade a Schiavonea la situazione è precipitata totalmente e non è solo il ceppato adesso a creare problemi non è la condizione del porto solo a creare moltissimi problemi ma è anche proprio un'emergenza vera e propria che si sta verificando forse come mai prima d'ora per mille motivi e ne scrivo a cadenza quotidiana sul quotidiano. Francesco Madeo è uscito anche pubblicamente nei giorni scorsi e condivido appieno quanto hai detto ossia quello che comunque io sto dicendo da un po' di tempo raccontaci un po' quale potrebbero essere secondo te le soluzioni per cercare di riportare un po' di ordine e chi ha competenza? Allora competenza sicuramente ce l'ha il sindaco visto che si lamenta quando il TAR sospende l'ordinanza di chiusura delle scuole dicendo che lui è l'autorità competente sul territorio per la sanità pubblica ma aggiungere anche per l'ordine pubblico e competente anche il prefetto che con il sindaco dovrebbero cercare di integrare quei 30-40 ragazzi che occupano abusivamente anche dei beni non solo privati ma dei beni anche che sono sotto gestione statale per il momento perché sono sotto sequestro e vengono sfruttati anche nei campi. Io guardo anche il risvolto della Mettaglia il disagio ce l'hanno i cittadini che giustamente in questo periodo di covid di pandemia vedono vivere dei 40 persone 50 persone sotto la soglia di dignità umana e sotto la soglia di igiene minimo perché non so come queste persone riescano a lavarsi a lavarsi le mani a fare la doccia quindi hanno anche paura che possono essere dei trasmettitori anche dei veicoli per il virus e dall'altra parte penso anche a questi ragazzi che sono sbarcati sulle nostre coste magari qualche anno fa un anno fa qualche mese fa cercando di trovare una sistemazione cercando di trovare una dignità umana lavorativa e personale e hanno trovato sfruttamento all'interno dei campi per carità poche aziende agricole sfruttano questo voglio che sia chiaro il messaggio voglio che sia chiaro sono poche le aziende agricole che sfruttano gli operai e tutte quelle che sfruttano gli operai sono tutte quante collegate alla criminalità organizzata non ci sono aziende agricole sane che sfruttano gli operai su questo territorio però è una problematica ormai sta una problematica perché perché sotto la soglia di indignità umana non si può vivere quindi aumentano i casi di spaccio aumento nei casi di furto aumento nei casi di aggressione dall'altra parte c'è una città di una cittadinanza che è chiusa in casa da otto mesi che non ha l'acqua da quasi un anno ormai all'interno idoneo all'uso umano all'interno delle proprie abitazioni ma c'è non se ti ricordi questa è stata questa comunità è stata tre mesi senza acqua potabile nelle proprie abitazioni senza un motivo scientifico amministrativo concreto e sono esasperati anche per la situazione economica e lavorativa per per personale che vedono la propria comunità la propria sicurezza individuale fisica personale dei propri ben dei propri investimenti i propri sacrifici andare ovviamente a male per un'amministrazione che si giura dalla dall'altra parte quando dovrebbe affrontare queste problematiche con un serio programma di integrazione degli immigrati spiegami una cosa scusa ti interrompo stavi condivido gran parte di quello che hai detto come fa un'amministrazione a girarsi dall'altra parte perché si gira dall'altra parte questo anche se c'è no fammi finire anche se c'è da eleggere un presidente della provincia anche se ci sono le regionali alle porte poi ti farò qualche domanda ma come fa a girarsi dall'altra parte un'amministrazione se avvianizza a scuola dove ci sono i bambini ci sono le 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 grate delle attaccate al muro il recinto che si vede proprio che c'è il tetano si vede che sono arrugginiti si vede che stanno crollando nonostante abbia i soldi per farlo perché i soldi sono perché si girano dall'altra parte secondo te ma io questo è una cosa di questo tipo cioè fai un favore a uno piuttosto che a un altro non è che dai un appalto non è che levi in appalto a uno di corigliano io lo dai a uno di rossano lo viene accusato non è che perdi un bro un progetto perdi un milione di euro perché devi fare un favore a un amico no io ti sto dicendo queste grade dove ci sono i bambini perché ma io questo l'unica spiegazione che mi sono dato è che si abbia fondamentalmente un'incapacità amministrativa perché ormai nel 2021 chiunque voglia amministrare deve avere un obiettivo politico un'idea di di città una programmazione amministrativa deve perseguirla per anni non avendo questa capacità e non comprendendo che bisogna avere una programmazione un progetto politico per la città un'idea ecco di 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 città secondo me l'amministrazione semplicemente attira di volta in volta l'attenzione su altre problematiche o su altre prospettive delle quali però non è convinta neanche lei perché poi non persegue quelle prospettive non persegono quelle tematiche quindi io penso che sia semplicemente un tirare a campare da parte di una di un'amministrazione che vuole cercare di risolvere qualche problemino per tirare a campare senza avere un'idea di città ben chiara senza avere ben chiaro il futuro di questa città il nostro futuro ti sta a cuore ne abbiamo le registrazioni la questione turismo così come la questione agricoltura non sarebbe adesso il momento di occuparsi dell'inquinamento del mare degli scoli abusivi dei lidi storici occupati da questi poveracci perché io l'altro giorno facendo una corsetta sul lungomario ho visto un furgone che ha scaricato due o tre ragazzi fradici che si sono andati a ficcare in un lido e lì veramente sono tornato a casa con un'amarezza con una tristezza ringraziando il signore di avere una doccia calda è una guerra tra poveri schiavonea sta diventando scusami so che tu sei di schiavonea ma sta diventando una guerra tra poveri tra persone che sono più disperate persone che sono meno disperate ma che comunque vivono entrambi le categorie un disagio continuo dovuto alla mancanza dello stato che in questo caso è il comune ora siccome molte volte purtroppo siamo stati cattivi profeti nel senso che abbiamo parlato di buche e sono successe disgrazie abbiamo parlato di inquinamento e purtroppo la gente si ammala adesso noi chiudiamo cercando di soddisfare anche quelle intelligenzie di un certo tipo già ridi e questo mi fa piacere azione calenda francesco madeo come ti stai trovando in questa composizione in questo contenitore politico e qual è l'agenda dei prossimi mesi allora io mi sottrondo molto bene perché azione un partito vivo è un partito dove c'è una grande mobilità e un grande confronto tra la base e leader quindi non si ha difficoltà a dialogare con il leader nazionale non si ha difficoltà a dialogare con leader locale non si ha difficoltà a fare assolutamente nulla è un contenitore nel quale c'è un grande humus un po un contenitore più europeo ecco dove c'è molta più mobilità si lavora insieme senza invidia senza celosia e ad oggi noi stiamo lavorando sul recovery fund stiamo cercando di progettare con un'azione di governo che vada bene per recovery fund mi hanno assegnato ovviamente la delega all'agricoltura a livello nazionale ma subito mi sono posto una domanda ma se il governo o azione carlo calenda mattio richetti costa lavoriamo tutti quanti per recovery fund quindi il governo si trova pronto per recovery fund riesce con tanti dubbi che noi abbiamo come partito a risolvere tutte le questioni legate al recovery fund e quindi riesce ad avere un bel progetto una bella progettualità per l'italia dovendo spendere 225 miliardi di euro tra il 2021 e il 2023 un miliardo e 8 solo per questo anno per il settore agricolo in italia ma la regione ma soprattutto i comuni sono pronti poi per accogliere questa progettualità per accogliere queste risorse economiche perché secondo me non sono pronti allora la nostra idea è ma il sindaco stasi sta lavorando affinché riesca a preparare la macchina amministrativa e il proprio consiglio comunale pure alla velocità e anche alla progettualità legata al recovery fund perché parliamo di un qualcosa come 20 30 milioni di euro è il più grande più grande operazione finanziaria fatta in europa dopo il piano marshall è un'occasione che non si ripeterà mai più nella storia dell'almeno della nostra generazione noi non vedremo più un'operazione finanziaria così importante con questa indità nei confronti dell'italia quindi la mia paura è se noi non organizziamo un percorso amministrativo politico pure perché io ad oggi dubito che ci siano continui comunali di maggioranza che siano preparati ad affrontare la progettualità del recovery fund con le guida che sono state date dall'unione europea per il recovery fund quindi non lo avremo in questo senso la città di colonna rossano rischia di trovarsi fuori dai finanziamenti quindi fuori dallo sviluppo comunitario quindi fuori dallo sviluppo economico turistico agricolo culturale infrastrutturale tutto quello che ne consegue allora io ti ringrazio per questa nostra solita chiacchierata informale qui in piazza grande speriamo di riuscirci a vedere ancora a breve più vicini magari visto che comunque siamo messi all'estremità questa volta speriamo che magari anche l'emergenza covid possa essere diciamo in sul finire di questa brutta situazione io ti ringrazio ti auguro buon lavoro e faccio un grosso in bocca al lupo grazie mille a voi per l'invito e faccio un grosso in bocca al lupo veramente di cuore a tutte quelle persone che per vari motivi in questo momento stanno soffrendo perché sappiamo che sono davvero tantissime noi comunque siamo una voce libera quindi se qualcuno ha qualcosa da da porre sotto i riflettori se vuole fare una chiacchierata con noi ci sono vari mezzi e noi siamo sempre a disposizione di chi che sia grazie a tutti quanti voi arrivederci alla prossima sempre qui sempre in piazza grande alla prossima